Questo tema, Vibo Capitale Libro, c'è. Informatevi sul programma, sulle pagine social e sul sito ufficiale www.vibocapitaledellibro.it Vibo Valencia, capitale del libro, una storia da vivere. Domenica 19 dicembre arriva a Vibo Valencia, capitale del libro, Gianettore Gassani, tra i più importanti matrimonialisti italiani, presidente dell'Associazione Italiana dei Matrimonialisti, racconti di famiglie e di violenze, prime durante il Covid-19. Viene a presentarci il libro, La Guerra dei Rossi, racconti di famiglie e di violenze, prime durante il Covid-19. Ne parliamo insieme al sindaco Maria Limardo, introduce i lavori l'avvocato Francesco De Luca, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valencia. Questo evento è accreditato dall'Ordine, un momento unico per ragionare e riflettere sulle relazioni di coppia, anche su questo tema. Vibo, capitale del libro, c'è. Informatevi sul programma, sulle pagine social.